Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'edizione del nostro notiziario dedicata a Porrenone provincia in apertura un flash di cronaca che interessa tutta la regione perché è stata chiusa poco fa la linea ferroviaria tra Monfalcone e Aurisina per un incendio che è divampato sulle alture del Carso. La località è quella di Sabilici vicino alla ferrovia sul viadotto che supera il Lizert sul posto. Stanno operando i vigili del fuoco di diversi distaccamenti. La linea ferroviaria naturalmente è stata chiusa e sono diversi ritardi e i treni soppressi proprio per permettere le operazioni di intervento. Ulteriori notizie ve le forniremo nelle prossime edizioni del nostro Tg. Per quanto riguarda invece la destra tagliamento andiamo a fare il punto dopo la tornata amministrativa che ha interessato diversi comuni del territorio con Daniele Boltine. Resta un solo comune in bilico in questa tornata amministrativa in provincia di Porrenone. Domenica 26 giugno si deciderà al ballottaggio il nuovo sindaco di Azzano X con la sfida tra Massimo Piccini ed Enrico Guin, sostenuti rispettivamente da Fratelli d'Italia e Partito Democratico con il supporto di liste civiche. Restano fuori dei giochi Angelo Bortolus della Lega e l'ex sindaco e assessore regionale Paolo Panontin. Tutto facile invece a Fontana Fredda per l'uscente di centrodestra Michele Pegolo, riconfermato con oltre l'80% dei voti. Ad Aviano invece non ce l'ha fatta il sindaco Ilario De Marco Zompit, sostenuto da tutto il centrodestra, che è stato superato di un centinaio di voti da Paolo Tassanzanin, presentatosi con due liste civiche. Prata di Porrenone ha scelto la continuità, ma per soli 48 voti. In una sfida al femminile, tra un centrodestra diviso, la vice sindaco uscente leghista Cate Cescon ha così vinto sulla sfidante di Fratelli d'Italia, Daya Denardi. A Casarsa il centrodestra si è presentato unito, sfiorando il 63% con Claudio Colussi, al terzo mandato da sindaco dopo le esperienze tra anni 90 e 2000. Battuta l'amministrazione uscente, che dopo i due mandati di Lavinia Clarotto aveva puntato sull'ex dirigente del comune di Pordenone, Flavia Leonarduzzi. Il centrosinistra riesce a tenere maniago, con l'elezione di Umberto Scarabello, vice sindaco uscente, che sfiora il 60% delle preferenze, battendo i due candidati di centrodestra. Nei comuni di Montagna, Giuliano Cescutti vince a Clausetto, dove si prepara ad affrontare il terzo mandato. A Cimo Lais, Davide Protti, unico candidato, è riuscito a raggiungere il quorum. Imprese non riuscite, invece, a Luciano Cedolin a Vito Dasio. Il comune sarà adesso commissariato. A proposito di Azzano Decimo, con Claudia Stefani, dunque andiamo a leggere quella che sarà la sfida al ballottaggio. Ballottaggio ad Azzano Decimo tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Massimo Piccini, sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla lista Azzano 33082, ha ottenuto il 31,39% dei voti, mentre Enrico Guin, sostenuto dal Partito Democratico e dalla Civica Azzano insieme, il 28,68% dei voti. Il candidato leghista Angelo Bortolus si è invece fermato al 25,59% dei consensi. Lontano Paolo Panuntin, con la sua Azzano Civica Panuntin Sindaco, ha ottenuto solo il 14,33% dei voti. L'affluenza alle urne azzanesi è stata del 55%, la più alta tra i comuni pordenonesi chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale. L'affluenza sarà probabilmente decisiva per il ballottaggio, oltre agli accordi con le liste sconfitte. L'esito è quanto mai incerto. Piccini e Guin hanno davanti ancora due settimane di campagna elettorale prima del 26 giugno. Ecco le prime dichiarazioni di Massimo Piccini e subito dopo Enrico Guin. Buongiorno e ringrazio tutti gli elettori per l'ottimo risultato conseguito. Siamo veramente felici e contenti di avesse stati premiati con la vostra fiducia. Vi aspettiamo per il turno di ballottaggio che sarà il giorno 26 giugno e a nome di Azzano 33082 e di Fratelli d'Italia non possiamo fare altro che invitarvi nuovamente a recarvi alle urne per mettere una X sopra il nome di Massimo Piccini, candidato sindaco. Grazie a tutti ancora dell'affetto e della stima. Siamo al ballottaggio, l'obiettivo minimo è stato raggiunto. Da oggi parte una campagna elettorale completamente diversa con regole completamente nuove che ha però come prospettiva, come obiettivo sempre quello che abbiamo dichiarato, cioè quello di vincere, di mantenere il governo di centro-sinistra da Azzano X, di mantenere il buon governo gestito per 10 anni da Marco Putto che andrà con noi in continuità. Noi siamo pronti a gestire da un secondo dopo che vinceremo il ballottaggio a gestire la macchina amministrativa perché già ce l'abbiamo in mano e soprattutto possiamo dare ampie garanzie di continuità amministrativa e di capacità amministrativa agli azzanesi perché la maggior parte dell'amministrazione uscente è ricandidata con me, assessori e consiglieri che sanno già come gestire il comune, quindi sicuramente la capacità e la possibilità di partire fin da subito con le progettualità in essere e con quelle nuove, noi la possiamo garantire. Andiamo a fare il punto della situazione anche nel vicino Veneto orientale con Iesolo che era il principale comune al voto. Affluenze basse per le elezioni amministrative nel Veneto orientale. A 90 di Piave esulta il centro-sinistra con il sindaco uscente Claudio Marian che ha stravinto con il 62% di voti. A Pramaggiore Fausto Pivetta è confermato sindaco, era l'unico candidato e il solo ostacolo alla sua elezione era il raggiungimento della quota minima dei votanti, fissata al 40% degli aventi diritto e l'affluenza è stata del 46,27%. Sarà quindi Pivetta a guidare Pramaggiore per i prossimi 5 anni. L'unico comune dove si andrà al ballottaggio è Iesolo dove tra due settimane ci sarà una sfida interna al centro-destra che vedrà su posizioni contrapposte Fratelli d'Italia e Lega. A sfidarsi saranno Cristopher Dezzotti che parte in vantaggio e Renato Martin sostenuto da Lega e Forza Italia. Sarà una sfida decisiva per capire le sorti del centro-destra. La cronaca continua nei controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato, pattugliamenti intensificati nelle aree veri dei parchi San Valentino e Galvani. Giulia Soligon. Intensificata l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato che nello scorso fine settimana ha effettuato servizi straordinari nel capoluogo pordenonese in vari comuni della provincia riservando maggiore attenzione ai parchi San Valentino e Galvani. In tali operazioni sono stati coinvolti anche gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Veneto di Padova e altri della questura di Pordenone. 165 le persone controllate, 62 i veicoli e 10 gli esercizi pubblici. Un'attività che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie della squadra volante e che è stata condotta al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina e i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione e in danno delle attività commerciali. Inoltre l'ufficio misure di prevenzione ha notificato tre foglie di via obbligatori a persone con precedenti di polizia. Un 36 anni di San Vito al tagliamento infatti non potrà tornare a Casarsa per due anni, mentre lontani da Pordenone per i prossimi tre anni resteranno una 24enne di Sacile e un uomo di 36 anni di Codroipo. Parliamo ora del polo tecnologico alto adriatico di Pordenone che ha avviato un innovativo progetto dedicato alla sanità. Ce ne parla Francesco Colussi. Non sono mancate le scintille nel consiglio comunale di Pordenone dedicato alle interpellanze dell'opposizione. La cultura è stata al centro del dibattito causando anche tensioni interne tra le fila del centro-sinistra. Botta e risposta tra l'assessore Alberto Parigi e la consigliera del PD Silvia Corelli che ha accusato l'amministrazione Ciriani di non aver portato avanti i progetti del conservatore del Museo di Scienze Naturali Umberto Chalvien scomparso alcuni mesi fa. In vista dell'interrogazione del bene comune sull'intitolazione del parcheggio di Via Vallona al poeta Federico Tavan ci sono stati momenti di tensione tra Marco Salvador della Civica e Nicola Conficoni del PD. Il primo ha regalato ai consiglieri un libro edito dalla stessa lista su Pierluigi Cappello dedicato al tema della concessione della legge Baccelli a Tavan. Conficoni invece ha rifiutato il dono ritenendola un'iniziativa strumentale. Poi il colpo di scena dell'assessore Parigi che ha voluto chiarire citando una delibera del 2014 che il parcheggio di fatto non è mai stato intitolato a Tavan e che quindi la polemica non ha senso di esistere e che si tratta di una diatriba tutta interna al centro-sinistra. Apprendiamo con soddisfazione che il parcheggio non è intitolato a lui ha risposto Lucia Cibin del bene comune e auspichiamo che un'eventuale intitolazione possa essere concordata con chi l'ha conosciuto e che l'evento non sia solo un evento ma che sia un progetto di conoscenza. Il servizio si riferiva invece alle polemiche in Consiglio Comunale a Porrenone avete sentito. Il servizio invece sul polo tecnologico ve lo proporremo nella prossima edizione di domani. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.